Ciao, sono Nicole e ti voglio invitare a Comune Mente, una rassegna di eventi culturali che si snoderanno tra le province di Padova e la provincia di Vicenza. Sono 5 i comuni interessati, il comune di Grisignano di Zocco, di Mestrino, Monte Galda, Monte Galdella e Veggiano. Se vuoi rimanere informato su tutte le serate, segui le pagine social Facebook e Instagram dei comuni e delle biblioteche. Che altro dire, ti aspettiamo! Ciao!